Valeria, se non sbaglio è già arrivato una mei su di noi e la musica. Sì, è proprio pertinente ovviamente all'argomento perché ci scrive Francesco da Cagliari e ci dice Premetto che amo la musica e tutta sia ascolto rock che musica classica, il problema però è l'uso che si fa della musica Ormai siamo bombardati dalla musica dappertutto anche nei posti più impensati, per esempio nei negozi lui dice Ormai non ci si rende più conto dell'inquinamento acustico in cui viviamo. Cosa ne pensate?